Amici di Arancia, Veronica e Velluto, eccomi qua come sempre mercoledì per parlare di chirurgia plastica, chirurgia estetica, con me ho il dottor Luca Grassetti e il dottor Vito Santoro. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sentite, quando si va un po' avanti con gli anni, la pelle purtroppo perde tono. Purtroppo sì, perde tono. E che si può fare? Possono essere applicati diversi trattamenti, sorvolo sulla parte di prevenzione dell'aging, quindi di prevenzione con la nutrizione, l'idratazione e la cosmesi, che è un argomento di cui magari possiamo parlare in un'altra puntata. Sostanzialmente si dividono in due grandi categorie, trattamenti iniettivi, quindi con sostanze che vanno a stimolare la produzione di acido ialuronico, di collagene, di sostanze che sono state perse dalla pelle e che quindi determinano quell'increspamento della pelle sugli strati più profondi. E si dividono in categorie di prodotti più leggeri, quindi adatti anche all'assità più lievi e prodotti invece un pochino più densi che vanno a ristrutturare, proprio dei bioristrutturanti. E noi parliamo di l'assità delle braccia, interno cosce, dell'addome, della pancia, certo. Quindi la prima valutazione serve per determinare se può essere efficace o meno un trattamento conservativo oppure se c'è bisogno del chirurgo, quindi di Luca. Beh, quando la pelle è eccedente, eccedente ovviamente non è che la puntura riesce a farla retrare a un certo punto, bisogna andare dal sarto che tagliandola ti stringe l'abito cercando di far nascondere la cucitura in una piega del corpo che sia poco visibile. Quindi lifting delle braccia, lifting del seno, delle cosce, del volto, avendo cura di far cadere le cuciture, ovvero le cicatrici, quindi le pieghe del corpo affinché non vengano percepite da chi ci guarda, soprattutto da lontano. Certo. Il numero per gli appuntamenti? 071 3580 435 oppure il canale social Oramai più in voga, il canale Instagram DR Luca Grassetti. Grazie a tutti.